Circa 70 persone senza fissa dimora sono state ospitate sinora nel centro di accoglienza allestito dalla Caritas Diocesana di Salerno in collaborazione con il Comune e la Protezione Civile. E sono proprio i locali della Protezione Civile in via dei Carrari a Salerno ad accogliere i clochard in questi giorni di eccezionale freddo. Una task force della Caritas, composta da un gruppo di volontari, ogni sera si reca nei luoghi dove di solito i senza fissa dimora trascorrono la notte per portarli al centro di accoglienza. Con l'ausilio dei mezzi della Caritas, per la maggior parte si tratta di persone di nazionalità rumena ma ci sono anche marocchini ed italiani. Al fianco della Caritas anche gli scout di Salerno e Battipaia che hanno montato all'interno dei locali della Protezione Civile una cucina da campo in modo da permettere ai clochard di cenare e fare colazione nel centro. Molti salernitani poi che hanno fornito il proprio sostegno donando abiti e coperte. Il centro è stato allestito al meglio in modo da permettere agli ospiti di trascorrere al caldo la notte. Abbiamo creato una vera sinergia nella solidarietà, ha detto Augusto De Pascale della Protezione Civile di Salerno. Ed è proprio grazie a questa straordinaria sinergia, ha sottolineato Enzo Salsano della Caritas, che si è riusciti in brevissimo tempo ad allestire il centro di accoglienza per dare un aiuto concreto alle persone che ne hanno più bisogno. Grazie. Grazie.